Ciao ragazzi e oggi continuiamo a trovare le ultime 14 carte dovremmo andare in questo punto della mappa ci vediamo tra poco qui si tratta di andare veramente al barbiere che c'era in zona quindi dovrebbe essere qua eccolo qui il barbiere c'è già gente fuori che fuma perché dentro è vietato e qua sul tavolino ci dovrebbe essere la nostra carta dunque adesso ci dobbiamo arricare in quest'altro punto più o meno e cercare diciamo l'area di palestra dunque eccoci arrivati qui alla palestra che è questa zona blu andiamo all'interno dovrebbe essere la carta da qualche parte sono di queste eccola qui la carta qui siamo alla carta 42 prossima tappa qua qua c'è il tremino che parte o la metropolitana non so bene cosa sia il tremino esterno quindi dovrebbe essere su una di queste panchine qua passiamo di qua eccola qui la carta dunque allora adesso da questo punto dobbiamo andare al negozio che si trova in questa zona qua ho il negozio la boutique e questa qua Ponce Bisse o come si pronuncia entriamo al suo interno e qua nel camerini ci dovrebbe essere la nostra carta prossima tappa qui dovete arrivare dove c'è questa grande fontana con questa decorazione diciamo penso che sia un'aquila e una di queste panchine di pietra dovrebbe avere la carta eccola qua eccoci qua dovremmo arrivare in giù più o meno qua anzi dovrebbe essere qua dunque allora questo dunque allora questo posto è questa armeria adesso faccio vedere bene il punto dove è che mi trovo perché forse non l'avevo segnato bene in mappa e il punto è questo qua dove proprio c'è l'armeria quindi lo vedete tranquillamente vedete è questo qua al suo interno troverete la carta sopra uno di questi tavolini eccola laggiù ora ci richiamo qui al locale dove c'è la scarpa qua l'alvanilla l'alvanilla o unicorn buonasera cioè buongiorno perché siamo di giorno però qua di ferito ci viene la sera andiamo di qua e in questi divanetti ci dovrebbe essere una nostra carta oh qua dei pimpieri dunque allora da qua ci richiamo al negozio dei tatuaggi che troviamo in questo punto della mappa ecco il negozio dei tatuaggi allora ragazzi un po prima del punto in cui ho indicato questa traversa dove c'è questo autobus distrutto al suo interno c'è la carta ormai ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine di questo ritrovamento di carte e siamo arrivati dal nord e andiamo verso sud e il sud dovrebbe terminare comunque adesso dobbiamo andare qui al negozio delle armi ho quasi l'ingresso e qua l'ingresso non l'avevo visto dunque al solito ho il negozio di armi quindi nel retro ci dovrebbe essere qualcosa delle nostre carte inizio di camminare un po' più velocemente eccola qua allora jet sam terminal dovremmo entrare qui dentro e nel terzo tavolino dovremmo trovare la carta che io ho già trovato quindi non la troverò però comunque ecco è qua qua allora cabina questa qua blu che c'è in questo parking nel suo interno ci dovrebbe essere una finnesima carta carta 53 aiaiaia che pugno che mi ha dato un tizio ma l'aeroporto allora l'aeroporto internazionale di los santos e qua su uno di questi pantini in blu ci dovrebbe essere l'ultima carta quindi abbiamo concluso le 54 carte eccola qua finalmente 54 carte abbiamo finito quindi vi ringrazio qui vi dice che avrete un nuovo mazzo di carte e l'abito da pezzo grosso è stato bloccato e aggiunto al tuo guardaroba vi ringrazio mettete mi piace più possibile mi piace e iscrivetevi al canale ciao e alla prossima da GTA 5 ciao 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 ciao